Il pittore nisseno Vincenzo Roggeri, a cui è già stata dedicata una targa all'interno della chiesa di San Domenico, verrà ancora una volta ricordato in città attraverso l'intitolazione di una strada. Lo slargo adiacente alla scuola Vittorio Veneto nel quartiere Angeli, attualmente Vallone Angeli, sarà dedicata all'artista del Seicento, le cui opere possono essere ammirate non soltanto a Caltanissetta, ma anche in altre città della Sicilia, come nel caso di Enna. Una proposta che era stata avanzata già nel 2012 e poi riproposta in seguito dal Comitato di quartiere Centro Storico San Domenico e che adesso si concretizza attraverso la delibera dell'Aggiunta Comunale, una notizia che il Comitato accoglie con grande soddisfazione. Questo per immortalare un nostro nisseno, un nostro nisseno grandissimo pittore del 634-635 probabilmente, che ha dato lustro alla città di Caltanissetta, dove moltissime sue stampe si trovano alle cattedrali di Caltanissetta, al Museo di Ocesano, al Collegio di Maria e alla Chiesa San Domenico. E anche a Palermo ci sono moltissimi dipinti, Palermo, Enna e Agrigento. Questo è il Rogerio. Il Rogerio è stato un grandissimo pittore di arte sacra, che purtroppo in quel periodo è stato offuscato dalla presenza del Borremanse e del Paladino. Quindi non è stato molto apprezzato, molto apprezzato, più che altro è stato anche dimenticato dai NSA. Dopo anni, grazie allo studioso dell'Utri, si è riportato in auge la figura di questo grandissimo pittore.